Grazie a tutti. A titolo di apertura, regioni, l'affondo di Draghi, ferme ad Anagni 29 milioni di dosi AstraZeneca, inviati in AS, pace tra UE e Londra, il premier, inaccettabili differenze sui vaccini e gli over 80, favoriti gruppi, le regole per riaprire le scuole. Falsa apertura all'intervista con il presidente Mattarella, la coerenza di Dante sia un esempio per noi. E poi l'editoriale, quelli che saltano la fila, siamo il paese delle categorie, così Antonio Polito oggi sul Corriere della Sera. Una notizia al centro della prima del Corriere che arriva da Ancona, Matteo ricoverato lontano dalla mamma, la carezza dell'infermiera al piccolo con il Covid. Una storia che certamente sta facendo breccia nel cuore dell'Italia con una fotografia meravigliosa oggi sul Corriere della Sera. Andiamo avanti e ci spostiamo sulla cronaca estera, la cancelliera e le chiusure di Pasqua, colpa mia, scusatemi, la retromarcia di Merkel. Andiamo su Repubblica, titolo di apertura, Letta vede Conte, patto per le amministrative, le trattative tra PD e Movimento 5 Stelle e poi il punto di Stefano Folli, molta difesa, poco coraggio. Andiamo invece su quello che accade all'estero, mappamondi, di spalla oggi su Repubblica una supernave ostruisce Suez, il traffico globale si paralizza e al centro della prima di Repubblica di oggi i vaccini, Draghi spinge la UE, più contratti con Big Pharma. Oggi il Consiglio europeo con Biden si punta a ottenere materie prime e licenze per aumentare la produzione. Verso l'intesa tra Bruxelles e Londra sulle forniture, in Italia l'ipotesi di mantenere le chiusure anche dopo Pasqua, il Premier, alcune regioni trascurano gli anziani e seguono altre priorità. E poi il commento di Enrico Franceschini, la salute senza frontiere, ma c'è spazio oggi in prima su Repubblica anche per la polemica, una generazione umidiata, così parla Chiara Saraceno. E al centro ancora ad Anagni il tesoro nascosto di AstraZeneca. Arriviamo sulla prima della stampa, dosi nascoste, bufera su AstraZeneca, questa è una notizia che fa il giro delle prime pagine di tutti i quotidiani, oggi in edicola. La Commissione europea accusa l'azienda destinata a Londra parte dei 30 milioni di fiale trovate ad Anagni sui vaccini, Draghi attacca le regioni, anziani trascurati il piano figliuolo, una puntura ogni 10 minuti. E poi l'analisi, chi si prende il gioco della UE. Disparla invece l'anniversario, eppure Dante mi era indigesto, così l'articolo di commento di Pupiavati che si apre oggi sulla prima della stampa per proseguire all'interno. E poi la fotografia, proprio in evidenza anche sulla stampa, i sorrisi del piccolo Matteo e l'amore che ridà speranza. E poi invece, letta conto e patto sui candidati nei comuni, adesso il segretario Demi incontrerà Mironi e Salvini per parlare di riforme. Ci spostiamo sul messaggero di Roma, caos regioni, anziani trascurati, affondo di Draghi in Senato, inaccettabili differenze territoriali nell'immunizzazione e favoriti gruppi che hanno forza contrattuale. Chiusura fino al 3 maggio, governo diviso. L'editoriale, il nodo commercio, la visione del premier di un'Europa più autonoma. E poi UE e Regno Unito verso l'accordo per i vaccini. AstraZeneca, 29 milioni di dosi bloccate, Blitz Day Nass nell'impianto di Anagni. Al centro, la nave di traverso che divide i continenti. La Evergreen si incaglia nel canale di Suez, in coda oltre 100 cargo. E poi pubblica amministrazione, smart working in quote ridotte, controlli sui furbi, il piano brunetta, solo il 30% dei dipendenti potrà lavorare da casa, valutazioni sul profitto. Arriviamo sul quotidiano al giornale di Alessandro Sallusti, titolo d'apertura Draghi alza la voce, cambio di registro, bacchetta al governo Conte e le regioni che non vaccinano gli anziani. Giallo su 29 milioni di dosi AstraZeneca in Italia, l'ombra di un doppio gioco dietro le forniture, trovate Ananagni, UE Furiosa. E siamo al centro, ignorate le accuse alla DEM, il silenzio dei giornaloni sullo scandalo Boldrini. Ci sono anche due articoli di fondo oggi che campeggiano sulla premia del giornale, il retroscena al piano B del Premier, commissariare le regioni, così ad Alberto Signore, e poi se la politica si ribella contro la casta dei magistrati di Augusto Minzolini. Infine siamo in taglio centro, migranti il Viminale ammette accogliamo ma zero rimpatri, la pandemia blocca la ridistribuzione. E siamo sul quotidiano economico sulle 24 ore, Giorgetti, rete unica, basta stallo, ora una decisione in tempi brevi. Invece al centro, sui vaccini Draghi, striglia le regioni, la lotta al Covid è in primo piano anche sul sole 24 ore. Taglio basso, autostrade verso la svolta, da CDP una nuova offerta. E siamo sul fatto quotidiano, in apertura, anzi falsa apertura, Lazio, quei pidini antiraggi assunti in ragione col trucco, il blitz con corso lampo in appena 15 giorni sotto Natale. E poi al centro, il titolo principale oggi in edicola, sul fatto quotidiano, a furia di accelerare Draghi 6, ingrippato, vaccini, altro che accentrare, ora si appella alle regioni. Riecco le primule, stessi numeri dell'era Arcuri, ma crescita più lenta, si torna a uno spot per città, regioni, permettendo. E poi i sondaggi tra condono e vaccini, il governo al 48%, Conte al 61% e Lega meno 7% nella sua Lombardia. Così oggi sul fatto quotidiano. Andiamo sul quotidiano a venire, trascurati gli anziani, il piano del governo prevede centri vaccinali aperti 12 ore al giorno, intesa tra la UE e la Gran Bretagna sulle esportazioni. Draghi critica le regioni sulle priorità nelle vaccinazioni, primarie aperte dopo Pasqua in zona rossa, giallo su 29 milioni di dosi di AstraZeneca stoccate ad Anagni, il sospetto di un export verso Londra. E poi l'editoriale tra Calcoli e Umanità, la ripresa di iniziativa italiana in Libia. Andiamo al centro, assegni per i figli, scatto alla partenza, martedì al Senato. Arriviamo sul quotidiano al tempo, parte la crociata contro Pfizer, cattolici USA e Vaticano contro il caro vaccino, alleanza fra gruppi sanitari e ordini di suore cattoliche per fermare il prezzo delle fiale, comprate azioni del Colosso per intervenire in assemblea e fermare i piani dei manager, depositata già una mozione che ricorda tutti i soldi pubblici dietro la scoperta del rimedio. E poi il tempo di Osho, la vignetta satirica che ogni giorno campeggia sulla prima del tempo, Draghi accusa le regioni troppe dosi ai furbetti, Guarda che ve ne faccio, rimane in rosse fino a Natale. E poi taglio centro, vaccino a mezzanotte, il telefono è rotto. Nel Lazio iniezioni anche in tarda serata, impossibile prenotare o disdire, il numero è in tilt. Andiamo sul manifesto e falsa apertura, stallo post voto Israele punto e a capo, nessuna maggioranza certa e Netanyahu minaccia le quinte elezioni. Ma la fotocopertina, tradizione sul manifesto, disastra. Alla vigilia del Consiglio europeo di oggi scoppia il caso dei 29 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca stoccate nello stabilimento di Anagni. L'ispezione dei NAS e l'azienda smentiscono che fossero per il mercato extra-UE, Bruxelles verso la stretta sull'export. E siamo sul quotidiano Il Dubbio, titolo d'apertura, processo mediatico, l'Italia deride la UE e la Costituzione. Ecco, dal 2016 saremmo tenuti a recepire il testo che vieta i PM di editare gli imputati come colpevoli. Lo impone pure la carta, ma il Movimento 5 Stelle non vuole. Spanger spiega cosa nasconde la lite alla Camera per la direttiva sul diritto penale. E arriviamo sulla verità di Maurizio Belpietro, titolo d'apertura, la UE perde la faccia e rischia di farci perdere pure i vaccini, dopo la figuraccia accordo con il Regno Unito. La Bruxelles falsi accusa da AstraZeneca, nasconde in Italia 29 milioni di dosi per Londra, ma le forniture sono destinate all'Europa e ai paesi poveri e Figliuolo ammette consegne dell'azienda in linea con il piano. Editoriale di Maurizio Belpietro scoprono la realtà, la Morgese, Epifani e Bonaccini, i caduti dal pero. E al centro, foto di Angela Merkel, clamorosa retromarcia della Merkel sul lockdown, un errore, mi scuso. Taglio centro, cricca delle mascherine, caccia i conti esteri, rogatorie a San Marino per trovare il tesoretto dei mediatori di Arcuri. I magistrati di Roma contestano pure il peculato agli uomini della vecchia struttura del commissario. Il sospetto sapevano delle maxiprovvigioni. Arriviamo sul quotidiano il mattino di Napoli. Vaccini, anziani trascurati, Draghi e Cusa, regioni nel caos, ritardi inaccettabili, la UE agisca o noi da soli. AstraZeneca, il governo in Vina, Sadanagni e Giallo su 29 milioni di sieri stoccati. E poi l'editoriale. Prenotazioni flop, il ritardo digitale alleato del virus. E al centro, su di recovery, non può colmare tutti i ritardi. Gli stati generali, l'avviso del ministro del MEF, Franco Carfagna. Metà dei nuovi cantieri nel mezzogiorno. Andiamo sul secolo XIX. Siamo in Liguria, infettati da lavoratori Novax. Liguria, nuovo caso in ospedale. Draghi e i vaccini. Alcune regioni trascurano gli anziani. Toti, basta polemiche. Il premier riduca la burocrazia. E intanto a Lavagna un operatore contagia otto pazienti. Il procuratore cozi possibili sanzioni se chi rifiuta il farmaco non viene spostato. E poi al centro, alla Fiera di Genova, il centro da 3.000 dosi al giorno. Taglio basso, autostrade Liguri, cantieri sono un caso. E allarme per la sicurezza dei trasporti. Due morti in 15 giorni. E i tanti lavori sulla rete scatenano la protesta di operatori e istituzioni. E siamo sul quotidiano nazionale del giorno. Ci vaccineranno fino a mezzanotte. E qui si torna sul tema. Iniezioni 12 ore al giorno. Liste in base all'età. Draghi, striglia, le regioni. Qualcuna ha trascurato gli anziani. Scuole da riaprire. Spy Stories su AstraZeneca. I nas trovano 30 milioni di dosi a Pomezia. Dirette fuori dall'Italia. Abbraccio di ferro tra UE e Londra. E poi invece l'editoriale. Il mea culpa è il declino di Angela Ladura. Merkel cambia idea sui divieti. Così Roberto Giardina oggi nel suo editoriale sul quotidiano Il Giorno Quotidiano Nazionale. Al centro c'è una foto. Papa Francesco. La povertà di Francesco. Crisi e pandemia. Il Papa avvia la spending review in Vaticano. Tagliati gli stipendi dei cardinali. E bloccati gli scatti d'anzianità. Dalle città Lombardia al nuovo piano sono 30.085 i morti. AstraZeneca sarà destinato anche agli over 80. Andiamo avanti e ci spostiamo sulle cronache sportive. Il Corriere dello Sport. Di Bale sul mercato. Nedved conferma Pirlo. Ma per Paolo si aprono nuovi scenari. Titolo principale. Riscatto mondiale contro l'Irlanda del Nord via le qualificazioni. 20.45 su Rai 1. Mancini partiamo bene. È la gara più dura. E siamo sulla Gazzetta dello Sport. Buon viaggio Italia. Ore 20.45. Parte la missione Qatar 2022. Al centro. Non resta la Juve ma vuole rinforzi. CR7 fumata bianconera. Ronaldo tra fiducia e richiesta di una rosa più competitiva. Summit con il club a fine stagione. Andiamo su tutto sport. Italia mai più un'altra Svezia. Questo è il titolo in falsa apertura. Mentre invece al centro. Avanti con Pirlo e CR7. Arriviamo alla cronaca locale. Siamo sulla provincia pavese. Superati 30.000 morti. La Lombardia resta rossa. L'anticipazione del direttore generale della sanità regionale. Pavesi. L'indice RT scende. Ma i ricoveri aumentano. Niente cambio di colore. Prima di Pasqua e forse fino al 12. Andiamo avanti e in taglio centro. Nell'ora di religione. La storia di un ragazzo ganese. Centinaio non apprezza. E Cattaneo lo bacchetta. E da Voghera tanta solidarietà. Vale Aurora. Quel bacio gesto d'amore. Andiamo avanti e ci spostiamo. Invece su Vigevano, cronaca. Vigevano muore di covid in ospedale. Catenina sparita. E succede anche questo. Andiamo invece a Casorate. Travolto dal carrello. Grave un agricoltore. E con questo si chiude il quotidiano appuntamento con oggi. Ne dico la buon proseguimento con i programmi di Pavia 1 TV. E con questo si chiude il quotidiano appuntamento con i programmi di Pavia 1 TV. E con questo si chiude il quotidiano appuntamento con i programmi di Pavia 1 TV.